Buongiorno e benvenuti ben svegliati con 7 in punto. Iniziamo subito con una parte dedicata al sostegno, all'ascolto, all'aiuto e chi meglio della psicologia e degli psicologi per darci una mano anche nei momenti di difficoltà non solo personale ma anche una difficoltà globale che alla fine ci coinvolge anche quando magari realmente non abbiamo grossi problemi. Parliamo di psicologia con Alessandro De Carlo, neopresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Un po' di abbassamento di voce, il risultato dell'euforia per questo riconoscimento, per questa elezione. Perché tra l'altro, al di là di essere presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, credo che uno psicologo raggiungere anche un ruolo di questo genere sia già una soddisfazione, ma c'è un'ulteriore soddisfazione, un dato, chiamiamolo così, di gossip. Lei è tra i più giovani, addirittura il più giovane presidente di un ordine professionale in Italia. Così pare. Non abbiamo trovato dati che disconfermino questa cosa. Il che non vuol dire che è appena uscito dalla scuola, lei ha fatto tutto il suo corso sonoro, ma è cinque anni di psicologia, i quattro di psicoterapia e tutto quello che ne viene dietro per fare questa professione. In realtà io ho fatto il dottorato e sto finendo adesso i quattro anni, sono al quarto anno di psicoterapia perché prima è incompatibile col dottorato di ricerca. Quindi insomma tutto quello che si deve fare in psicologia lei l'ha fatto. No, ma sgomperiamo il campo perché uno dice guarda è così giovane presidente dei psicologi, ma ha fatto la sua laurea e tutto il percorso perché psicologo non ci si inventa. È un percorso molto lungo e anche molto articolato. Ci fa appunto una breve descrizione di come si diventa psicologo? Lo psicologo è una professione sanitaria, per essere psicologi bisogna essere iscritti all'albo degli psicologi, all'ordine. Per fare questo bisogna fare cinque anni di psicologia, tre più due, un anno di tirocinio e poi passare l'esame di Stato. Questo dà l'abilitazione a fare lo psicologo ed è l'unica condizione in questo paese che permette l'esercizio della professione psicologica. Dove si fa questo anno di tirocinio? Lei ha detto una professione di ambito sanitario, giusto? Sì, appena diventata. Siamo appena passati totalmente sotto il Ministero della Sanità a dicembre. Questo passaggio è un passaggio che ha un valore? È un passaggio che ha un valore nella misura in cui lo psicologo riesce a proporre un nuovo paradigma di salute, perché se lo psicologo si mette dietro al medico nel paradigma della salute malattia cura ha molto meno da dire. Se invece riesce a mettersi a pari del paradigma medicale, quindi ampliare il concetto di salute in malattia cura, prevenzione, malattia cura, ma anche benessere, aumento del benessere, allora aumentiamo lo spettro del concetto di salute e diamo un grande contributo alle professioni sanitarie. Quindi un passaggio che è rivoluzionario per certi aspetti, che riconosce il benessere di un individuo come elemento fondante per la sua salute psicofisica globale. Cioè, meglio io sto con la mente, con i miei atteggiamenti, se vogliamo, con i miei stati d'animo, di conseguenza anche il mio fisico riesce a stare meglio. Quindi finalmente si abbatte quella barriera anche un po' banale delle malattie psicosomatico, delle malattie della mente che non hanno niente a che vedere con le malattie del fisico. Cioè, noi quando ci ammaliamo, ci ammaliamo nella complessità, non è che si ammala il fisico, si ammala la mente. Comunque anche la mente può essere considerata una parte fisica, così come il corpo può essere considerata una parte mentale. Sì, beh, come ho detto, la rivoluzione ci sarà nella misura in cui riusciamo a portare avanti un'idea coerente. E per questo sarà necessario molto lavoro. In realtà, oltre all'idea dell'ammalarsi mente-corpo, e dove c'è malattia mentale, e molto anche ambito di applicazione della psichiatria, che lo psicologo non solo non ha gli strumenti per invadere, ma non credo abbia interesse. No, no, io non intendevo malattia mentale a livello di patologia mentale. Intendevo proprio che nel momento in cui tu hai una patologia fisica, comunque la tua mente, il tuo benessere, anche psichico non risente, e viceversa. E viceversa. Ma l'essere si riflette su anche una capacità di percepire un dolore che è diversa da uno stato di benessere. Intendevo questo, che finalmente abbiamo sdoganato il fatto che l'individuo ha la sua complessità, non è un arto, un organo e un pensiero. È parte integrante. E abbiamo sdoganato anche un'altra idea. Cioè, al professionista della salute ti ci puoi rivolgere sì se stai male, ma ti ci puoi rivolgere in tranquillità se stai bene. Perché? Per il semplice desiderio di stare meglio, di avere anche una maggiore produttività sul lavoro, anche migliori relazioni, anche una migliore capacità di gestire alcuni ambiti della vita quotidiana. Quindi è un concetto di salute che esce dal concetto di stare male, malattia, oppure dover ristabilire un equilibrio in qualche modo perso, mentale, corporeo, interconnesso, ma anche semplicemente stando bene, sentendosi bene, l'idea di stare meglio. Quindi è un concetto di salute molto nuovo che sarà faticoso portare avanti, ma che gli psicologi possono portare avanti adesso nella misura in cui riescono a sviluppare un dialogo costruttivo con le varie ambiti delle professioni sanitarie. Lei diceva un concetto di salute. Io penso all'etimologia della parola, al significato originario di salus latino, che significa proprio stare bene, benessere. Quindi è un recuperare, non avere la malattia, ma è proprio stare bene, cercare di essere nelle migliori delle condizioni. Questo riconoscimento, questo fatto che siete finiti finalmente nell'ambito del Ministero della Sanità, quindi una professione di ambito sanitario, è l'inizio di un percorso ed è anche forse un elemento che ha caratterizzato la sua elezione a Presidente dell'Ordine degli Psicologi. Cioè anche chi è che osteggiava questo essere al pari medici e psicologi? Era più una ritrosia della vostra categoria di mantenere un ambito staccato o magari uno scetticismo da parte della parte medica che nel caso in cui dovessero rivolgersi alla mente avevano lo psichiatra come riferimento, quasi lo psicologo non avesse questa funzione, una funzione superflua, quasi un vezzo. Ma questa è una bella domanda, ma la diatriba è molto difficile da sceverare in poche parole perché ricordiamoci sempre che la medicina ha qualche migliaio di anni di storia continuativa, la psicologia in realtà anche, ma è comparsa, scomparsa molto più a spot e come professione diciamo ordinistica e con un suo corpus diciamo più o meno stabile, non entriamo nella questione dell'ipistemologia della scienza, diventa complesso, ma avrà cento anni, avrà una centinaia di anni e 25 anni come professione ordinistica, quindi lo psicologo deve dimostrare anche alle altre professioni della salute quanto e come può contribuire ed è un processo sicuramente faticoso. Osteggiato in realtà oggi come oggi non lo vedo tanto, è una questione molto di paradigma, di idea. Se alcuni psicologi entrando nel mondo della salute preferiscono l'idea di mettersi nel paradigma medicale, altri preferiscono l'idea di assecondare sì il paradigma medico ma anche fare l'ampliamento di cui parlavo prima. E questo è un qualcosa che all'interno della categoria non è ancora così certo. Perché alcuni psicologi per esempio sono molto abituati all'ambito clinico, quindi sono abituati ad avere persone che arrivano da loro perché in condizioni di disagio, il loro essere e la loro professionalità è simile a quella del medico ma in un altro ambito. Altri psicologi invece sono gli psicologi del benessere, gli psicologi nelle organizzazioni, gli psicologi dello sport, gente che si occupa di benessere psicologico e di funzionamento della persona ottimale o addirittura migliorato. E per queste persone l'idea di essere professionista della salute può essere molto bello, però c'è bisogno di capire cosa intendiamo per salute, perché tanti non si riconoscerebbero con un medico e tanti psicologi. Quindi è necessario allora per queste persone rivedersi nel concetto di salute allargata. Al di là della collocazione che il singolo professionista vuole trovare, qual è la richiesta che arriva poi dal paziente ma anche dall'individuo? È una richiesta del paziente che va dallo psicologo quando avverte il disagio oppure sta aumentando la richiesta delle persone di avere un supporto, di avere un elemento di confronto e di aiuto e di sostegno proprio per migliorare le proprie prestazioni nel senso di vivere meglio il lavoro, le relazioni umane, le relazioni sociali, vivere meglio e sapere affrontare anche poi quelle che sono le cose belle e le cose brutte della vita. Perché io credo che abbiamo perso la capacità di confrontarci con il dolore senza dover arrivare fino al confronto con la morte. E quindi è importante secondo me ritrovare la propria dimensione umana e anche la dimensione che la vita riserva purtroppo delle pagine nere oltre che tante belle pagine bianche. Io devo dire che vedo con grande soddisfazione un aumento di fame e di psicologia in tutti i contesti. La psicologia a cui si giunge i momenti di disagio continua a esistere e continua ad essere una parte importante. Ma negli ambiti organizzativi il concetto di avere un'attenzione alle persone, anche a come queste persone possono stare meglio anche per lavorare meglio, siamo comunque una società del terziario, quindi il fatto che la persona voglia fare il proprio lavoro, la motivazione, questi elementi più intangibili diventano importantissimi, così come nello sport, così come nella psicologia del benessere. C'è molta risposta. Uno dei grossi problemi è la scarsa conoscenza della figura dello psicologo che spesso è accomunato in qualche modo al medico, per esempio. Quindi per andare dello psicologo bisogna essere persone quantomeno un po' strane. Quello che noi cercheremo di fare in questi quattro anni di consigliatura è di portare all'attenzione della popolazione che cos'è lo psicologo, che cosa può fare. Lo psicologo è un professionista della persona, del funzionamento della persona, che mette al centro la persona. Quindi non c'è da sentirsi nei mattini strani ad andare dello psicologo, anzi è un voler stare bene o meglio, oppure riconoscere di avere qualche problema nella propria vita senza necessariamente essere nei mattini strani e volerci dare un attimo una regolata. Ma è importantissimo fare chiarezza su che cos'è lo psicologo, togliere una serie di miti che riportano poi a Freud, che era uno psichiatra, e a Jung, che era uno psichiatra. Quindi la psicologia nasce dalla medicina, quindi il medico dei matti in realtà aveva un senso, ma oggi è molto passato. C'è un problema di comunicazione su che cosa fa lo psicologo. Quindi voi proponete un nuovo umanesimo, quasi dopo anni di esaltazione delle macchine, della celebrazione dei computer, del cervello elettronico. Non so se sia stata la crisi o che, c'è una riscoperta dell'humanitas, del valore umano e del cervello umano, che comunque è ineguagliabile rispetto a delle macchine, quasi anche una riscoperta di quegli ambiti emotivi, che poi alla fine sono la fonte di quella che noi chiamiamo felicità. Se esiste una felicità o di seriità, che poi alla fine anche questo è benessere, no? Io mi diverto molto con i miei amici ingegneri, che ovviamente, nella psicologia, vabbè, in realtà se consideriamo l'interazione uomo-macchina in un contesto produttivo, 50% macchina, 50% uomo, sembra paradossale, ma per quanto sia complesso lavorare sulla macchina, lavorare sull'uomo è più difficile. Soltanto che ormai le macchine hanno un tale livello di avanzamento che è difficile migliorarle. E quindi si è spostato finalmente l'attenzione su migliorare anche la performance della persona e delle persone in gruppo. E questo in tanti ambiti. Ma è difficile, è molto difficile, quindi c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di più pazienza, c'è bisogno di capire le persone, c'è bisogno di disponibilità e questa sensibilità in effetti si sta sviluppando. Noi, sì, possiamo dire che un'idea di un nuovo umanesimo, che però non è un umanesimo a sé stante, ma interagisce con la macchina, interagisce con tutte le complessità del mondo moderno. Un umanesimo del terzo millennio, ovviamente. Questo possiamo dire, sì, possiamo sentirci di proporlo. E con noi tante professionalità che si occupano della persona, tra cui anche la medicina, per esempio. È vero che il cervello, lo cervello umano è stato esplorato su una piccola parte, perché lei faceva il paragone con la macchina, la macchina è progettata comunque da un uomo, quindi chi l'ha progettata sa quali sono tutti gli ambiti e le particolarità. Il cervello umano però, nessuno conosce chi l'abbia progettato, ci sono delle ipotesi per cui non ci sono le istruzioni per l'uso e quindi è tutta una scoperta. È vero che ci sono delle aree ancora inesplorate le cui potenzialità magari allenate possono dare dei risultati inattesi? Sarebbe come chiedere a un navigatore prima di Colombo se tutto il mondo era stato esplorato. Avrebbe risposto sì, certo, dopo Gibilterra la terra è piatta, si cade giù. Ma io credo che Colombo non avrebbe risposto così, tant'è vero che... Esattamente. Da un punto di vista scientifico... Dici, vabbè, io vado, navigo nel mare e vediamo se trovo una terra. Esattamente. Quindi, dire... Gli psicologi navigano... Oddio, scusate perché succede anche questo. Gli psicologi navigano nel cervello delle persone e magari trovano delle cose inesplorate. Dire quanto è stato esplorato e quanto rimane da esplorare è molto difficile. Però io credo il paradigma, l'idea della scienza moderna è che c'è sempre da esplorare. Se si chiede a un fisico che studia le particelle più piccole esistenti e gli si chiede ma c'è qualcosa di più piccolo generalmente dirà sì e se non lo posso vedere lo posso dimostrare matematicamente che c'è qualcosa di più piccolo. Così io credo che la mente umana ma in generale tutto quello che si può studiare possa essere ancora enormemente approfondito. È anche un augurio perché più c'è da approfondire più c'è da scoprire. Lasciamo per un attimo la teoria che credo fosse essenziale anche per un po' presentare quello che è il lavoro dello psicologo e caliamo la vostra professione nel contesto attuale. È innegabile che soprattutto in quest'area del territorio c'è un elemento che stiamo verificando al di là della enfasi giornalistica però insomma ci sono persone quasi ogni giorno che si tolgono la vita. gli imprenditori che imprenditori o artigiani che magari nella corrispondenza di una difficoltà economica e magari di una difficoltà personale che magari nascono anche dalle difficoltà economiche per cui magari la rete familiare un po' si sfalda eccetera non tiene si tolgono la vita ma anche casi di giovani che non ce la fanno ad affrontare. È una notizia di stampa oppure c'è un particolare fenomeno che in quest'area si propone e perché visto che appunto lei parlava di analisi del benessere anche in un contesto sociale come si fa alla luce di questo paradigma che lei stava elencando a dare una mano perché certi fenomeni possono essere arginati possano magari dire d'accordo non bisogna arrivare a questo gesto perché c'è sempre un'altra strada. La risposta alla prima parte è sì c'è un problema che non è soltanto locale ma è diffuso però c'è una forte componente anche nel nord est e in particolare in Veneto mi sento di aggiungere che non è necessario non compiono questi gesti persone necessariamente con delle malattie depressioni assolutamente perché a volte mi piace questa domanda ma mi piace questa questa guardi io questa domanda non gliel'ho fatta perché partivo già dal presupposto che non non mi sento di dire che chi compie un gesto estremo sia perché soffre di qualche patologia anzi credo che ci possa essere un cortocircuito in ciascuno di noi e e e non so ma bisogna avere molto rispetto anche per per certe situazioni è possibile che ci sia ed è anche possibile che una patologia si sviluppi a seguito dei traumi ma non è necessario si chiama disperazione quel cortocircuito la disperazione è quello che può portare anche a gesti estremi perché di più nel nord est io individuerei alcune tematiche per lo più sociali in primo l'identità qui l'identità lavorativa specialmente degli imprenditori ma anche dei lavoratori perché ci sono stati molti casi di lavoratori è molto legato al lavoro uno si identifica con quello che fa o con quello che è chi sei tu chi sei sono il datore di lavoro di 20 famiglie di 20 persone che nutrono 20 famiglie portano a casa il pane perché io faccio andare avanti l'azienda non è cosa fai chi sei nel momento in cui crolla quella parte se non c'è un'identità con diverse con diverse sfaccettature ma l'identità cosiddetta identità sociale è preponderante nel momento in cui viene a mancare quel presupposto la persona si trova senza nessuna identità la seconda è l'isolamento ora non è che il Veneto è una regione di stiliti tutti vivono su una colonna e non si parlano l'isolamento è una condizione è una condizione che aumenta il rischio di suicidio il problema è che la cultura è molto chiusa anche persone che avrebbero una rete con cui potersi confrontare confidare raccontare spesso non lo fanno e infatti c'è ancora la vergogna qui c'è un sentimento di comunque chiusura un po' di cercare di far da soli sicuramente una questione di poi bisogna trattare queste cose con molto rispetto perché ogni caso è diverso nella maniera più assoluta però si può dire che c'è una questione culturale quindi anche un invito un invito ad aprirsi a parlare perché tutti abbiamo bisogno di aiuto sono successi dei casi in cui le famiglie dicevano non sapevamo nulla hanno saputo dopo il fatto tragico che fare l'aiuto è necessario che sia professionale e multidisciplinare ci sono degli strumenti ci sono dei numeri verdi c'è uno regionale c'è l'associazione speranza al lavoro che è nazionale di che cosa fare? parliamo subito dopo la pubblicità perché poi anche la linea che la psicologia perlomeno in Veneto vuole avere è quello di essere vicino alle persone di essere calata nel territorio nell'ascolto e nell'aiuto diretto non qualcosa di astruso chiuso in studi e lettini torniamo subito dopo la pubblicità grazie siamo tornati in studio con noi abbiamo il neopresidente dell'ordine degli psicologi del Veneto Alessandro De Carlo che ci stava illustrando il nuovo valore il nuovo ruolo che vuole assumere la psicologia che una disciplina di sostegno di aiuto a tutti quanti non soltanto un ricorre nel momento in cui magari uno ha un malessere un disagio e questo vuole essere anche un po' la linea della sua presidenza il fatto che lei sia anche molto giovane come è possibile trovare delle risposte prima di andare in pubblicità stava lanciando un appello dicendo guardate facendo riferimento alle tante persone che si tolgono la vita imprenditori c'è un numero regionale antisuicidi ci sono delle associazioni che ascoltano ma come si fa a trovare qualcuno che ci ascolta visto che voi volete proprio essere a contatto con le persone presenti in maniera capillare dove vi troviamo? Allora a parte con tutte le modalità che vi ho detto prima gli psicologi nel Veneto sono quasi 8000 quindi ce n'è sicuramente uno vicino a casa e ci sono una serie di strumenti informatici altrimenti c'è l'albo online sul sito ordinepsicologyveneto.it ci sono tutti gli psicologi iscritti all'albo oppure basta andare in farmacia se non sbaglio dal proprio medico di base a chiedere l'UMI in questo momento si sta molto diffondendo la collaborazione tra psicologo e farmacista e l'ordine sta attivando un gruppo di lavoro specifico io ho avuto occasione di incontrare i presidenti dell'ordine di farmacisti di Padova e Venezia prima della mia elezione adesso ci eravamo lasciati con riprendere il dialogo una volta una volta eletto un qualsiasi presidente perché qua non è merito mio credo che qualunque presidente dovrebbe portare avrebbe dovuto portare avanti questa questa questione forse è stato eletto da 8.000 professionisti proprio perché condividono questa linea di presenza capillare di sostegno la presenza capillare è fondamentale noi stiamo portando anche avanti un progetto di legge regionale che si chiama psicologo del territorio per avere uno psicologo ogni 5.000 abitanti che sia facilmente raggiungibile e diffuso appunto su tutto il territorio regionale che diventi un po' un'antenna e una stazione di invio sia per le persone con qualunque condizione di disagio ma anche per quelle di benessere e non di invio soltanto a psicologi perché lo psicologo deve diventare multidisciplinare se c'è bisogno di un invio al medico al medico se c'è bisogno di un invio all'avvocato al commercialista al dietologo invio alle figure lei sta evidenziando appunto attraverso esempi molto pratici l'invio al dietista all'avvocato al commercialista ecco vuol dire che ci sono delle mancanze di benessere dei disagi che nascono da problemi finanziari problemi di questioni tensioni familiari aziendali e quindi l'avvocato problemi di non accettazione di sé quindi sono un po' questi gli ambiti che poi configurano l'essenza di una persona lo stato economico lo stato relazionale e la percezione di sé sicuramente e in questo lo psicologo può essere un pivot perché in quanto professionista della persona può essere uno che capisce i problemi e cerca anche di integrare una risposta qui è un problema diciamo anche un po' filosofico se vediamo lo psicologo come il professionista dal setting classico che mette sul lettino sulla poltrona il suo cliente paziente e conta soltanto quello che viene detto allora è un tipo di professionista ma se c'è per esempio facciamo conto un problema con un debito Equitalia io posso stare sul lettino finché voglio a dire o lo psicologo mi paga le cartelle esattoriali oppure giustamente il problema è la percezione e anche l'ansia che ti dà la cartella sicuramente c'è un problema di ansia che può essere però è meglio che prima uno capisca come può pagare questa cartella dilazionando e quindi un commercialista magari c'è la risposta prima che abbatte l'ansia prima di lei diciamo che lavorano insieme anche perché tra l'altro io ho notato con l'esperienza che abbiamo fatto appunto sul tema dei suicidi che una una certa osmosi tra i professionisti migliora la prestazione perché da una parte lo psicologo che si confronta col commercialista sta un po' più attento anche agli aspetti pratici ma il commercialista che frequenta lo psicologo sviluppa maggior tatto né dare certe notizie che normalmente essendo un esperto di numeri potrebbe dare in modo un po' brutale con delle conseguenze anche importanti e magari il cliente paziente si sente protetto si sente comunque non da solo e questo già è un supporto non indifferente mi piace questo programmatismo è questa la linea la cifra che la professione vuole vuole perseguire? è quella che ho portato avanti io e che ha portato avanti il mio gruppo e che cercheremo di portare avanti rispettosi di tutte le diverse sensibilità degli psicologi che sono sicuramente varie e tutte vanno rispettate è la nostra idea comunque lei parlava del progetto di legge regionale del psicologo del territorio ed è ovviamente questo progetto di legge che cosa risponde? risponde al fatto che io posso essere assolutamente d'accordo come tutti i telespettatori e con la maggior parte delle persone che cercare aiuto nel momento in cui insomma si elimina lo stigma che il rivolgersi ad uno psicologo significhi avere dei problemi mentali eccetera però sottolineato che lo stigma sia stato eliminato c'è un'altra barriera andare dallo psicologo non è un servizio offerto dal sistema sanitario quindi ha dei costi eccetera quindi lo psicologo del territorio vuole invece come riconoscimento di legge regionale vuole aprire la possibilità con il pagamento del ticket di avere prestazioni di questo genere? allora la norma finanziaria piccola nota tecnica la norma finanziaria non può essere inserita all'interno di una proposta di legge popolare quindi questo lo deciderà la regione e esiste una misura in cui una piccola misura in cui la psicologia è coperta dal sistema sanitario ma non è comunque preponderante ecco un'idea un'idea che abbiamo avuto col primo firmatario che è il comune di Zevio il cui sindaco è diventato adesso tesoriere del nuovo ordine è quella che per esempio possa esserci un cofinanziamento da parte dei comuni perché molti comuni si trovano ad essere adesso dei ricettori di disagio che non è solamente economico è preventemente psicologico e il comune non sa dare una risposta spesso i sindaci al loro ricevimento trovano un sacco di persone che in realtà avrebbero bisogno di uno psicologo se mancasse appunto lo stigma del concetto di psicologo il psicologo potrebbe dire qualcosa potrebbe fare qualcosa per loro si va dal sindaco perché è una figura che si conosce quindi un cofinanziamento da quella parte lì un cofinanziamento con delle questioni tramite fondazioni perché sarebbe un modo di proporre la salute innovativo eventualmente un cofinanziamento europeo eventualmente dei fondi regionali la norma finanziaria viene discussa dalla regione ma di enti che possono avere un interesse e un vantaggio economico certo perché poi è una questione di costi sociali che si abbattono esattamente più siamo in salute come inteso come benessere più c'è un risparmio anche oggettivo di quello che può essere interventi successivi ma anche farmacologico perché quante situazioni oggi vengono risolte con il farmaco che magari ti perscrive il medico di base non voglio criminalizzare nessuno e quanto invece potrebbero essere affrontate con la psicoterapia un percorso più lungo ma un percorso decisamente anche più difficoltoso anche più costoso alcune psicoterapie sono anche brevi e non tutti necessitano di psicoterapia ma ascolto chiamiamolo così l'ascolto ecco magari ho usato un termine improprio più che altro la questione c'è molta c'è molta ricerca specialmente in Inghilterra dove è stata introdotta una figura di questo tipo sul risparmio ma oltre ai costi proprio i costi delle medicine ci sono costi sociali perché ci sono delle persone che sa bene è più produttiva e riesce a fare anche molte più cose con la serenità piuttosto che avere malumore quindi si tratta quindi si tratta anche di dare un'energia positiva nuova e questo il psicologo deve poterlo fare e credo tutte le professioni liberali oggi dovrebbero mirare a dare nuove energie al paese perché è un humus comunque di professionalità molto importante e molto ricche che oggi può veramente tornare utile a questo paese che deve trovare tutte le sue risorse quanto è importante una dimensione corale per il beneficio del singolo ma anche della società cioè quanto è importante che in momenti di difficoltà chi oggettivamente si fa un esame di coscienza sta bene deve in qualche modo smussare sdrammatizzare dare entusiasmo infondere entusiasmo perché altrimenti diventa una specie di litania collettiva che ci coinvolge ma l'entusiasmo l'entusiasmo cioè può essere in qualche modo si fa un po' guru americano della comunicazione no no non intendevo in quel senso le parlava di isolamento cioè quanto liberarsi dall'isolamento il salutare magari il sorridere un sorriso in più un sentire che se uno ha un problema magari il vicino di casa gli passa lo zucchero o mica gli risolve questo può essere utile questo fa bene in generale fa bene anche all'umore io vedo come un componente fondamentale di questo l'impegno ma un impegno che sia ragionato oggi come oggi e arrivo quindi alla risposta perché ha senso oggi come oggi l'impegno deve essere solidale la solidarietà non è un concetto da boy scout è un concetto adattivo ieri potevamo far da soli col mondo globalizzato dobbiamo essere compatti quindi la solidarietà è un concetto completamente darwiniano e quindi un impegno solidale che quindi apre e arricchisce arricchisce il singolo e il gruppo quindi la società e non dico soltanto umanamente anche lavorativamente anche dal punto di vista di farcela è secondo me la risposta che oggi si può dare noi come categoria vorremmo dare il nostro contenuto e noi ci aspettiamo insomma il vostro impegno pragmatico perché una mano per stare bene serve sempre che tutti poi speriamo al benessere ringrazio Alessandro De Carlo meo presidente dell'ordine degli psicologi del Veneto do spazio alla pubblicità torniamo studio con un altro ospite grazie 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 grazie